Ciao beautine! Bentornate in questo nuovo video, allora oggi vi propongo questo rucco con eyeliner marrone e matita verde nella rima interna inferiore dell'occhio direi quindi di non perderci in chiacchiere perché il tutorial è davvero semplicissimo iniziamo ad applicare il correttore su tutta la palpebra e l'ombretto con il carne opaco sotto l'arcata sopraccigliare e nella piega dell'occhio nella piega dell'occhio creo una leggera sfumatura con questo ombretto sabbia con sottosono caldo su tutta la palpebra mobile applico questo bellissimo ombretto sabbia shimmer con un ombretto in crema bianco realizzo una riga di eyeliner bianca che utilizzerò come base per andarci a fissare al di sopra l'ombretto marrone riutilizzo l'ombretto in crema bianco e questa volta lo applico nella rima interna inferiore dell'occhio e lo utilizzo come base per andarci a fissare al di sopra l'ombretto verde termino poi il trucco occhi andando ad applicare il mascara sia sulle ciglia superiori che inferiori dell'occhio ed il tutorial è terminato come avete visto è davvero semplice però molto molto carino io spero che vi piaccia se è così lasciatemi un like e noi ci rivediamo nel prossimo video ciao beautine iscriviti al nostro canale Grazie.